Voglie sapere di Filippo Paresini e del maestro Raffaele Velotto, un bambino che chiede alla sua mamma il motivo della presenza di tutti quei nomi incisi là, Ngoppo Monument. Questa piazza sta un monumento, ma per me non riesca a camminare, voglio sapere mamma mi fa contente, perché so scritto da un di nom Allah. Samma sentì, mo sì, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano papà, triamunahù, murettano senza mai chiudere di namm. La mia zaccigli, tanti, tanti nom, sicuro con bo mia ci starà, sarà chi la donanno dopo non, la lampa si rinceva capiccià. Samma sentì, mo figlio, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano papà, triamunahù, murettano senza mai chiudere di namm. Samma sentì, mo figlio, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano papà, triamunahù, murettano, mo figlio, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano papà, triamunahù, murettano senza mai chiudere di namm. Samma sentì, mo figlio, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano papà, triamunahù, murettano senza mai chiudere di namm. Samma sentì. Samma sentì, mo figlio, un bello mio, si stanno scritte, gindinamme là, partettano antiromo,